Cosa fai qui a scuola di pomeriggio? Beh, se sta formando una squadra e voglio iscrivermi. Non dirmi che vuoi fare sport? Oh, pensavo che non sarebbe mai successo. E infatti è così. Sono venuto a iscrivermi alle Olimpiadi delle Menti. È una gara nazionale che si terrà qui sabato e quindi noi del Ridgewood dobbiamo partecipare. Sarà una sfida all'ultimo neurone. Ho sempre sognato di partecipare a queste Olimpiadi, ma per vincere dovevo creare il mio dream team. Io ero Kobe in cerca del mio LeBron. Ho scoperto che sono due campioni di basket. È così, gli ho sparato. Sì, niente da dire. Il tuo computer ha tanta RAM quanto il mio, John. Quando il mio è... SPENTO! Arti, ti avevo detto di venire qui da solo. Oh, uffo che non ti abbia dovuto dire la stessa cosa. RUGIA! Scusa, non ho sentito a causa dell'assordante rumore delle rotelle del mio cervello che girano alla grande. VOOM! È buona questa, segno tra. Cosa vuoi, Runi? Due parole. Olimpiadi e mente. Sparite. Sto mettendo su un dream team. Voglio combinare le mie competenze in robotica e merendine varie con le tue in aerodinamica e rapide fughe al bagno. Formeremo così... Una scomoda alleanza esclusivamente finalizzata alla nostra maggior gloria. Esatto, Arti. Tu, io e una terza persona che non avrà nessuna voce in capitolo. Noi due avremo il dominio completo. Ci sto, amico! Sputa stretta? Puff! Che schifo! Perché l'abbiamo fatto?